426 reinvenimenti di merce, 397 multe, 393 sequestri, 189 notizie di reato ed altrettanti sequestri penali. Sono alcuni dei numeri dell'estate della Polizia Municipale di Rimini che ha mantenuto sempre alta la guardia contro l'abusivismo commerciale. Gli agenti hanno pattugliato le spiagge sequestrando in totale 1.012 sacchi, il triplo dei sequestri del 2011. Principalmente si trattava di borse e borsellini, ma anche grandi quantità di bigiotteria, quindi abbigliamento e tanto materiale elettronico. Abbiamo dato una bella legnata all'abusivismo, ha dichiarato con soddisfazione il sindaco di Rimini Andrea Agnassi. L'abusivismo non è sconfitto, ma abbiamo risposto con i fatti. Anche i pallinari sono stati oggetto di attenzione, 43 i verbali elevati. L'ammontare del denaro a loro sequestrato è di 10.750 euro. Le azioni anti-abusivismo messe in campo sono state tante ed articolate. Assieme ai controlli sulle spiagge sono state anche avviate indagini conoscitive sui potenziali venditori abusive sui loro movimenti ed effettuato una sensibilizzazione dei turisti e dei cittadini riminesi. Per la prima volta abbiamo inciso sul fenomeno, ha commentato Vasco Talenti, comandante della Municipale di Rimini. Il 2014 è un anno che può essere il punto di partenza per il prossimo. Il fenomeno non è stato eliminato, ma sicuramente è stato fortemente limitato. Un risultato raggiunto anche grazie alla forte sinergia tra istituzioni e tutte le forze dell'ordine. Effettivamente il fenomeno non si può dire che sia debellato, però credo che l'azione della Polizia Municipale insieme a Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Capitinerieri di Porta e Corpo Forestale dello Stato, perché tutti hanno contribuito a questo obiettivo, davvero ha dato molto molto fastidio ai venditori. Anche il loro nervosismo, la loro aggressività testimonia appunto la difficoltà che hanno avuto nell'operare e che, come dire, si è concretizzata con oltre mille sequestri effettuati in questa stagione. Il contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale non si fermerà con la fine dell'estate. I controlli proseguiranno anche durante l'inverno, concentrandosi in particolare nelle zone del mercato del mercoledì e sabato.